d'estate così come nei periodi di festa quelli in cui si è con gli amici con i parenti a tavola con i commensali spesso e volentieri si conclude la propria cena al proprio pranzo con il tipico brindisi che sia spritz che sia prosecco che sia spumante champagne aranciato o coca cola c'è sempre più o meno quando si tratta di una di un'occasione conviviale il momento in cui si urtano i bicchieri si fa cin cin e qualcuno dice sempre alla faccia di chi ci vuole male oddio non lo sento sempre proferire perché le persone che io ho scelto per celebrare i momenti di leggerezza nella mia vita questa cosa non la dicono c'è qualcosa di più odioso di fare un brindisi alla faccia di qualcuno c'è veramente poco più odioso di questo ma purtroppo è caratteristico delle persone che si sentono pedinate dal bene chi si sente pedinato dal bene chi sa che ha fatto qualcosa che non doveva o chi sa di aver avuto ragione ma al tempo stesso sporca questa ragione con un sentimento di rabbia tende sempre a mettere le mani avanti e quando fa un brindisi soprattutto se lo documenta sui social aggiunge sempre scrive sempre alla faccia di chi ci vuole male brutto bruttissimo è una cosa che non ho mai sopportato che non ho mai tollerato che non ho mai fatto e che non ho mai neanche pensato riuscite a immaginare a capire dove sta il pensiero di una persona che magari dovrebbe vivere quel momento di leggerezza pensando a cose belle non sparando una sentenza o brindando in faccia a qualcuno o alla faccia di qualcuno che voi ci crediate o no questo tipo di pensiero nel momento in cui si fa il brindisi scorre nella testa di moltissime persone che hanno un business soprattutto il nostro business online perché quando facciamo la nostra attività quando iniziamo la nostra attività siamo ovviamente bersagliati da critiche bersagliati dai dai pareri non richiesti di persone che non conoscono ciò che abbiamo iniziato a fare ma che criticano che mettono in dubbio la nostra integrità mentale che vogliono salvarci allora spesso e volentieri chi fa network e inizia a vedere il bello di questa attività ma chiunque abbia un'attività di business appena comincia a vedere che funziona quando fa i brindisi dentro di sé pensa sempre alla faccia di coloro che non pensavano a me pensare questa cosa e dedicare un momento di celebrazione a qualcuno a cui non interessa il tuo successo anzi a cui dà fastidio è esattamente buttare le energie proprio come abbiamo detto nella puntata nell'episodio scorso quello che dovremmo insieme riuscire a fare per rendere più bello più brillante e più luminoso l'ambiente lavorativo che viviamo ogni giorno dovrebbe essere quello di direzionare i nostri momenti di celebrazione a celebrare l'amicizia a celebrare e a ringraziare per il sacrificio di essere lì che hanno compiuto gli altri perché diciamocelo francamente a volte quando ci si ritrova in occasioni conviviali magari certi giorni non ne hai voglia perché vorresti stare a letto a riposare a recuperare energie invece decidi che per amicizia si fa questo ed altro questo va celebrato va celebrato questo tipo di di dedizione questo tipo di dazione verso gli altri non so neanche se si dica così però rende bene il concetto impariamo a celebrare lo diciamo sempre ma a celebrare le cose belle a celebrare la vita a celebrare che siamo ancora in grado di vedere percepire sentire sulla pelle il sorriso che ci dedica un amico lo sguardo carezzevole ci dedica una persona dall'altra parte quando facciamo il brindisi ci guardiamo negli occhi proviamo a pensare che non dovremmo mai insozzare i momenti belli con il pensiero delle cose brutte e invece c'è gente che si nutre non dei propri successi ma si nutre degli insuccessi degli altri e quando festeggia quando celebra pensa sempre alla faccia di chi mi vuole male questo lo dicono i i finti perseguitati coloro che si sentono perseguitati coloro che pur di avere un posto nel mondo pur di contare qualcosa si mettono vestono i panni della persona perseguitata mentre tu dici alla faccia di chi mi vuole male probabilmente non c'è nessuno che ti vuole male ma sei tu che stai recitando il ruolo della persona malvoluta questo è una distorsione perché quando ti nutri di questo tipo di paura di questo tipo di avversione di questo tipo di convincimenti tu diventi quello pensateci ogni volta in cui sarete con gli amici e con i parenti pensateci perché il momento del brindisi il momento del cin cin è un momento cruciale dell'esistenza di ognuno di noi perché stai condividendo perché stai suggellando magari non un'amicizia o un patto o una una fratellanza stai suggellando un momento bello che hai vissuto con loro cosa cazzo dici alla faccia di chi ci vuole male io Alessia ogni volta che ci imbattiamo in un post che ha questo tenore ogni volta che sentiamo qualcuno che celebra dicendo questa frase ci guardiamo in faccia ci diciamo molte cose perché ci siamo imbattuti in tantissime persone che probabilmente brindano la faccia nostra ma c'è una sola differenza quando tu non vuoi male a nessuno possono fare tutti i brindisi che vogliono dov'è la tristezza e il momento di poca serenità dalla parte di coloro che pensano in negativo ecco perché il mio invito è quello di non buttare via le celebrazioni non intendere il momento di festa come un momento di rabbia nascosta non confondete il celebrare un successo con l'aver sconfitto il pensiero di qualcun altro perché altrimenti la vostra intera vita sarà basata su questa forma di successo avere ragione non è questo che ti fa diventare una persona di successo non è avere ragione vincere una guerra di nervi contro qualcun altro quello è tipico di chi vuole avere successo perché lo si dica e voi sapete che una cosa è il successo e una cosa è essere persone di successo perché il successo ce lo hanno anche gli stronzi essere una persona di successo è una cosa ben diversa e se tu celebri e fai un brindisi con i tuoi amici e pensi di celebrare e lo dici utilizzando le parole pensi di celebrare il momento meraviglioso che stai vivendo è perché sei sereno perché sei concentrato su quanto di bello stai vivendo e vuoi amplificarlo se invece in un momento di felicità arretri e torni all'epoca primordiale torni all'epoca preistorica un momento di felicità lo sporchi dicendo alla faccia di chi ci vuole male vuol dire che sarai destinato al successo effimero ma non a diventare una persona di successo